Musica Ben trovati a Sport News. La riabilitazione di Alex Nikolov procede senza intoppi. Lo schiacciatore bulgaro della Lube Civitanova si allena nella sala pesi dell'Eurosuole Forum con Max Merazzi, preparatore fresco di rinnovo. Reduce dall'intervento chirurgico per risolvere la problematica di ermia discale, l'atleta balcanico sta recuperando la forma. L'obiettivo è completare questa fase nel mese di agosto e affrontare con i compagni l'intera preparazione atletica. Ascoltiamo ai microfoni le sue dichiarazioni. Alex Nikolov, è bellissimo vederti sorridente al palazzetto. Innanzitutto, come stai? Sto bene, sto molto meglio. Sono venuto qui a lavorare e a mettermi di nuovo in forma. Tu sei protagonista di natura, non vuoi mai sottrarti alla lotta. Quanto ti ha costato rinunciare alle ultime partite decisive per i play-off quinto posto? Sicuramente è stato non piacevole. Mi dispiaceva tanto che non avevo la possibilità di finire la stagione come, beh, alla fine è finita come volevamo, però mi dispiace che non sono potuto starci lì in campo e spero di fare un pieno ritorno adesso a inizio stagione quest'anno. Ecco, la buona notizia per te e per i tifosi della Lube è proprio che ti aggregherai al gruppo ad agosto. Più o meno quando pensi di finire questa fase di riabilitazione in base a quanto vi siete detti con lo staff medico? Tutto dipende un po' da come mi sento giorno dopo giorno, però più o meno è stato dato un periodo di due mesi, più o meno, dal giorno dell'intervento. Quindi sì, dovrei essere in, magari non piena forza, ma in una buona condizione per iniziare l'8 agosto. Una piccola parentesi, che effetto ti fa vedere il tuo fratellino, fratellino per modo di dire 2,07 metri allenato da Chico Blengini nella Nazionale Bulgara? Di nuovo un gusto dolce e amaro però perché mi sarebbe stata un'esperienza molto figa giocare con mio fratello in WNL. Purtroppo quest'anno non abbiamo avuto la possibilità e so che stanno lavorando tanto con Chico e niente, l'ho visto crescere davanti ai miei occhi queste partite, ogni partita sta crescendo, quindi non vedo l'ora di avere la possibilità di giocare insieme a lui. Quest'anno Gianpaolo Medeia, la guida della Lube, hai già parlato con Gianpaolo, con il nostro coach? Sì, ho parlato, ci siamo incontrati due volte e niente, l'ho conosciuto molto poco, un po' più formale e non vero l'ora di iniziare. Il coordinamento ASD Yoga Marche promuove la sesta edizione dello Yoga Day Civita Nova Marche 2024 che si svolgerà domenica 23 giugno presso il Varco sul mare dell'Idocloana dalle ore 17 alle ore 20. Lezioni di yoga aperte a tutti, ragazzi giovani ed adulti uniti in una pratica di asana e meditazione per creare uno spazio di unione ed armonia. Ci saranno anche due sessioni di meditazione con campane tibetane. Al termine delle lezioni saranno distribuiti anche gadget in omaggio. La partecipazione è gratuita. 12 diverse squadre con oltre 100 ragazzi in totale disputeranno dall'8 al 13 luglio la The Junior Cup 2024, organizzata dalle cantine riunite Tolentino al campo di Viale Benadduci. Divertimento, socialità ma anche solidarietà, questi gli ingredienti base di questa edizione. Scopriamo di più nel servizio che vi proponiamo. Marco Salvatori e Giannicola Domizzi, rispettivamente presidente e dirigente delle cantine riunite della città di Tolentino, sono venuti quest'oggi a presentarci un nuovo torneo che ritornerà quest'anno ad animare il campo da calcio di Viale Benadduci della nostra città. Marco, partiamo da te spiegando come è nato questo The Junior Cup Benadduci 24. Salve a tutti. Nasce dall'iniziativa di alcuni nostri ragazzi che dopo due anni in cui si sono svolti tornei amichevoli al Benadduci, ci hanno chiesto di organizzare un evento un pochino più organizzato, più ufficiale. Allora abbiamo deciso di appoggiare questa iniziativa e come cantine riunite abbiamo deciso di riproporre questo torneo in maniera più seria, però ci tengo molto a dirlo, organizzato da loro, hanno trovato gli sponsor per le maglie, hanno fatto i completini, quindi è soprattutto merito dei ragazzi, noi siamo stati molto contenti di appoggiarli. Oltre 100 ragazzi coinvolti che giocheranno un torneo all'italiana, 4 gironi, verranno coinvolti però 12 squadre. 12 squadre, circa 100 ragazzi, sì, gironi di qualificazione, semifinale e finale, la durata è dal inizio 8 luglio e salvo imprevisti meteorologici il sabato 13 la finale, quindi una settimana finalmente di tornei, di gioco, di divertimento al Benadugi che è storicamente il luogo del calcio a 5 di Tolentino partendo da tanti anni fa e che poi purtroppo è stato un po' interrotto, però lo riproponiamo soprattutto con i giovani. Un evento anche di solidarietà, Gian Nicola tu sei anche referente dell'Admo Montiazzurri, diverse le associazioni che sono state coinvolte per questa manifestazione. Sì, allora noi rappresento Admo Montiazzurri, però tengo a precisare che le associazioni coinvolte saranno 3, Avis, Admo e Aido, rispettivamente Avis e Aido Tolentino, noi nel bacino di Montiazzurri invece come Admo. Vista l'occasione che i ragazzi si sono organizzati in un torneo così molto rappresentativo, con 100 ragazzi, come ha detto Marco, ci siamo sentiti anche di poter partecipare, di sostenerli con gadget e attività di supporto varie in modo da poter anche partecipare nella sensibilizzazione di quelle che sono le nostre mission, quindi ingentivare i ragazzi a conoscere quelle che sono lo spirito di Avis, il doratore del sangue, Admo, midollo osseo, Aido, donatori degli organi, che nel contesto magari sembrerà poco rappresentativo, ma è molto incisivo nel discorso di sensibilizzazione generale in questi ragazzi che si avvicinano ai 18 anni, quindi potranno fare questa scelta consapevole di donare e aiutare il prossimo. Parteciperà attivamente Marco anche l'Associazione Tolentinate Amici Per. Sì, Amici Per è un'associazione con la quale siamo molto legati, abbiamo già fatto altre iniziative, quindi che cosa abbiamo pensato? Approfittiamo di questo torneo, di questa manifestazione per dare anche un segnale di solidarietà e insieme ad Amici Per abbiamo organizzato una donazione che poi scopriremo alla fine del torneo, da destinare a una famiglia a noi molto legata che sta attraversando un periodo difficile e che siamo ben contenti di aiutare. È un piccolo gesto, però dalla collaborazione tra Cantine Riunite e Amici Per può essere un sostegno e un momento positivo in un periodo difficile. Ultimo evento di Primavera in Bici, il festival dedicato alla mobilità sostenibile ed ideato dall'amministrazione civitanovese con le associazioni, il gruppo sportivo Fontespina 2000 e Civitanova Green Life. L'appuntamento è per domenica 23 giugno con la pedalata tra le stelle. Partenza alle ore 19 dal barco sul mare con destinazione Cinciallegra. Dopo una pericena, visita guidata tra le stelle a cura degli astrofili di Alfa Gemini. Con quest'ultima notizia è davvero tutto anche per questa edizione odierna del TG. Grazie come sempre per averci seguito e a tutti voi una buona serata.